Siamo con Simone Ferretti, Poker Pro di Scommesse Italia. Allora Simone, la maledizione del day 1 si conferma? Sì, ho appena fatto un day 2 la notte del poker, adesso subito segato all'ultimo livello del day 1. Purtroppo non penso di aver sbagliato i grossi spot, condannato poi Dan da un colpo secondo me obbligato, 50 bui con il mio oppo abbastanza aggressivo. Sono finiti i resti preflop, lui aveva due assi, aveva due fanti, board liscio ovviamente, siamo qua. Altri tornei in programma per il 2012 o ci fermiamo un attimo e arrivederci all'anno nuovo? Ma credo che stiamo tirando le somme, mi sa che aspettiamo che Giorgina finisca sto torneo, speriamo bene, che ha chiuso credo molto bene oggi. Poi mi sa che tiriamo le somme, ci vediamo poi anno nuovo con un po' di riposo, magari se riusciamo anche un po' di mare al caldo, poi dopo ricarichiamo un po' le batterie e ripartiamo con convinzione. E allora ringraziamo Simone Ferretti e arrivederci al 2013 a questo punto. Grazie a tutti, con l'occasione per augurare a chi ci segue, buon Natale, buone feste, ci vediamo nel 2013. Auguri a tutti. Grazie a tutti.